tre dei quattro componenti la banda di ladri che ieri poco dopo le 13 dopo un furto in un'abitazione nel tentativo di darsi alla fuga hanno speronato a pergola la gazzella dei carabinieri intervenuti sul posto sono già in carcere a villa fastigi due arrestati dagli stessi carabinieri che nonostante lo shock per la collisione con una pronta reazione li hanno bloccati e ammanettati ed un altro catturato intorno alle 18 di ieri dopo una caccia all'uomo in forze scattata in pochissimo tempo e che ha visto impegnati 25 uomini e un supporto aereo un'operazione conclusasi veramente in maniera positiva il concerto di tutte quante le componenti che sono state poi coordinate dal comandante della compagnia ha prodotto questo risultato più importante e forse anzi non meno importante però rimane la prima segnalazione che è del cittadino è quella che poi in realtà ha permesso alla pattuglia di intervenire per cui bene le ricerche e bene l'operazione ma soprattutto se noi riusciamo a ottenere sempre più questi comportamenti positivi da parte dei cittadini raggiungeremo probabilmente con maggior successo questi risultati tutta la banda era composta da elementi di etnia rom provenienti dal campo di Zagarolo ed erano pendolari del crimine partivano il lunedì per poi rientrare il venerdì dopo le razzie negli appartamenti compiute in Marche, Emilia Romagna e Umbria a finire in manetta sono stati Durdevice e Manuel, 32 anni, il palo della banda Patussi e Natasha, 44 anni, probabilmente la figlia del capo della banda con il ruolo di carpire la fiducia delle persone alle quali andavano a suonare e Durdevice e Davor, 66 anni, il fuggitivo poi acciuffato ora manca il quarto componente, la batteria, l'autista della Rover 75 che ha investito l'auto dei carabinieri e che sono finiti in ospedale per le conseguenze riportate pesanti le accuse al loro carico, furto, rapina impropria e tentato omicidio Il militare interviene senza pensarci, sa che lo deve fare e lo fa con coscienza e si mette in conto forse quello ma se non lo mettesse in conto opererebbe in maniera forse meno serena e meno preparata L'esito e la rapidità di tutta l'operazione la si deve anche al prezioso supporto aereo di un reparto di protezione civile dell'aeroclub di Fano che ha di fatto con il suo intervento braccato il fuggitivo Questa zona era impervia, il supporto aereo ha fatto sicuramente in collaborazione con il gruppo Cinofili una bel joint venture quindi è uscito un bel lavoro di squadra tant'è che abbiamo messo i ladri, li abbiamo messi alle corde e poi l'arma dei carabinieri ha fatto bene il proprio lavoro quindi complimenti all'arma dei carabinieri Questo è anche dare un po' onore a chi ha contribuito e quindi effettivamente è tale Grazie Grazie Grazie